Nei prossimi giorni la circolazione moderatamente ciclonica presente a nord-est regredirà e farà esaurire l'afflusso di correnti dai quadranti settentrionali sulla nostra regione. Si espanderà dunque l'alta pressione con aria calda tuttora centrata sull'Europa sud-occidentale. Da giovedì sul Veneto le temperature torneranno elevate ma la circolazione non sarà più nettamente anticiclonica permettendo così un po' di instabilità pomeridiana più che altro sulle zone montane. Martedì cielo poco nuvoloso a parte qualche temporaneo annuvolamento specie sulle zone montane nel pomeriggio, per il resto spazi di sereno anche ampi. Precipitazioni più che altro nelle ore pomeridiane potranno verificarsi fenomeni da locali a sparsi anche a carattere di rovescio sulle zone montane. Mercoledì cielo da sereno a poco nuvoloso salvo annuvolamenti un po' più significativi sui rilievi nel pomeriggio. Giovedì il cielo in prevalenza poco nuvoloso anche se gli spazi di sereno si alterneranno ad alcuni addensamenti. A partire dalle ore centrali sarà possibile qualche rovescio locale temporale sulle zone montane. Temperature in aumento.